Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi realizziamo insieme un trucco occhi super semplice adatto a tutti con solamente due ombretti e una matita. Il primo ombretto che vado a utilizzare è l'ombretto liquido di Clio Makeup nella colorazione croccante. È questo ombretto liquido che può essere utilizzato come primer, come base, come ombretto da tutti i giorni. Io lo uso principalmente come base ma anche come ombretto perché come vedete va ad uniformare tutta la palpebra però gli va già a dare un tocco di colore che secondo me è molto bello e naturale e soprattutto adatto per un trucco da tutti i giorni. Ci sono tantissimi colori, ci sono anche quelli in pot che sono quelli metallici e secondo me vale veramente la pena se volete investire su un prodotto che non è low cost, però non è neanche uno di quei prodotti con un prezzo altissimo perché comunque costano 15 euro, però secondo me ne vale davvero la pena. Ok, dopo aver applicato il mio primo ombretto che andrà a creare l'ombretto di transizione, comunque l'ombretto principale, vado ad applicare il secondo e ultimo ombretto, ovvero quello shimmer. Io ho deciso di utilizzare tutti e due i prodotti di Clio e appunto applicherò quell'ombretto in pot che vi avevo detto prima che io utilizzo sempre, molte volte da solo, però anche per creare la prima parte dell'occhio e il punto luce perché sono perfetti, luminosi, durano tutto il giorno, secondo me sono molto molto semplici anche da sfumare e appunto ne basta poco per avere un effetto veramente pazzesco. Prendo un pennello di questo tipo e vado a prelevare il mio ombretto direttamente dalla cialda e poi lo applico nella prima parte dell'occhio, in questo modo, portandolo leggermente verso l'ombretto di prima e vado a creare la mia parte luminosa, in questo modo, applico poco prodotto alla volta e pian piano lo vado a sfumare, portandolo anche verso il marrone che ho applicato prima. Lo posso sfumare con le dita e comunque, come vedete, questo è l'effetto. Vi faccio vedere stratificando un altro po' di ombretto sopra, che comunque il colore si andrà ad intensificare, però applicandone comunque poco alla volta non avremo quello strato eccessivo di prodotto che poi andrà a depositarsi tutto nelle pieghe e quindi viene fuori un disastro. Quindi mi raccomando, poco alla volta. E questo è l'effetto dei due ombretti abbinati insieme, secondo me sono perfetti. Non avete neanche bisogno di settarli con una cipria o eventuale ombretto in polvere perché essi si fissano e non hanno bisogno di niente perché non si muovono. Ora è arrivato il momento della matita e ovviamente uso sempre la All Day Love di Clio, questa qua è la colorazione chocolate, quindi una matita marrone. Io preferisco le matite marrone rispetto a quelle nere perché l'effetto è molto più naturale e delicato rispetto alle matite nere che magari sono un po' più intense, adatte, magari ha un look un po' più intenso, però possono essere usate tranquillamente, vedete un po' voi quello che preferite. Io la matita la vado ad applicare qua all'attaccatura delle ciglia, volendo posso aiutarmi tirando leggermente e la vado ad applicare appunto qua tra le ciglia per riempire i buchetti e rendere lo sguardo un pochino più intenso e definito. Ok, io ho creato leggermente anche la codina finale perché a me piace, poi vedete un po' voi in base al vostro occhio, al vostro gusto, cosa fare. Come ultimo passaggio direi di applicare il mascara e per restare in clima Creo Makeup il 360 Flip, che è un mascara pazzesco, a me piace molto anche il Dark Love, però questo ha una marcia in più, cioè adesso vi faccio vedere un occhio sì e uno no, è veramente, cioè è pazzesco, fa delle ciglia che vi cambiano totalmente lo sguardo. E questo quindi è il risultato finale del make-up, super semplice, adatto veramente a tutti. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, iscrivetevi al mio canale, ci vediamo al prossimo video.